Ragazzi, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata del DLC di Immortal Fu Rising I Misteri del Regno d'Oriente Quelli lì hanno fatto il respawn Facciamo un super riassunto di quello che avevamo successo C'era una idea che si chiama Nua Che ci ha detto che a Buzhou dobbiamo andare da Gong Gong a prendere qualche cosa Le fiamme di Yan Di E poi dovevamo prendere i frammenti del Tian Siamo andati dove c'era il drago distrutto L'abbiamo liberato e ci ha chiesto il draghetto Che poi dopo tra le altre cose si è messo dentro di lui Di andare a liberare la sorella che si chiama Ni La sorella di Ong si chiamava il drago, esatto Allora E quindi oggi quello facciamo più o meno Tra l'altro questo, i miei cieli è una quest che vi ho dato dall'inizio Non so se ci sarà solo una quest in tutto Ma non credo Vediamo questa quest come si chiama La leggenda in persona, non ce la so Allora però ci siamo accorti ieri A parte il fatto che non capisco perché ancora ci sta questa cosa Le foto non le voglio vedere Le mie foto si Però ieri abbiamo dimenticato di prendere questo scrigno E oggi incominciamo esattamente da qua Andiamo a vedere Ma che si è chiusa l'altra volta la porta Ma chissà perché fa così questo posto Perché se è risentato lo scatolo Evidentemente quei due dispositivi fanno aprire questa porta qua Vabbè Andiamo avanti E dove sta questo? Va lì Tra l'altro adesso li dovremmo fare molto più Stavo dicendo che li dovremmo fare molto più male Sta giù Allora saltiamo da quell'altra parte E così vediamo a che parte di giù sta Che qua sotto non ci sta fine Ma che c'è una gaverna là dentro? Che non l'abbiamo visto Ma non ci abbiamo proprio resistenza però eh Questa qui non l'abbiamo vista Ok questo è a tempo Uno E due Andiamo avanti Questo ancora è a tempo Uno E due Andiamo avanti E abbiamo preso anche quest'altro scrigno Cinque pesche E due cristalli Ma qua veramente è avaro questo DLC eh? Anche perché Ah però aspettate Forse costano molto di meno Ma noi dobbiamo andare esattamente là Qui non c'è nessun posto per arrivarci velocemente Poi avevamo detto che volevamo prendere anche questo Andiamolo a prendere Questo è uno scrigno epico Ah però aspettate ma Ma qua è dove abbiamo Non abbiamo fatto la sfida Evidentemente Non stavamo proprio Concentrati C'era una sfida mitica Cerca Sole Che non l'abbiamo proprio fatta Vediamo E poi c'era anche Un'ambrosia Che non mi ricordo esattamente come si chiama Ah sta qua qua sotto Vedi? C'è il casone E quella lì Di velocità E dove devo andare qua? E dove devo andare qua? Vabbè ragazzi Siamo fortissimi comunque Qui si è incastrato Moneta di Giada Ah questo qui serve per potenziare Solo due abilità si possono potenziare qua dentro C'è anche la musichetta In stile giapponese Andiamo a prendere quell'ambra Dobbiamo fare anche Ci mancano un sacco di pozioni Se vuoi che Quello giallo Ma anche i crisantemi Si chiamano qui Allora E queste qua le abbiamo prese E quindi tutta questa parte qua Quasi tutta la parte sud Della mappa Stavolta l'abbiamo fatta E non ci siamo dimenticati niente Andiamo a prendere questo qui Anche se mi sa che E' più veloce andare qua sopra Vabbè dai Andiamo a prendere questo qui E poi dopo Ce ne andiamo da sopra Così così Vediamo anche un poco Esploriamo anche un poco la regione Ho come l'impressione che Questo DLC Ci sia il più corto di tutti Anche se Bisogna tenere in considerazione Il fatto Come che va a scatola Non disponibile Che Sa quella Ah guardate questo ponte Ma dai Comunque effettivamente Dobbiamo provare Zelda Comunque Che stavo dicendo Ah Abbiamo fatto finora Solamente una cripta del tartaro Ragazzi Che qua si chiamano In un altro modo Però Non ci ho preso Bello Il problema è che Dovresti ci saltano addosso Così Quello si è bloccato Non ci hanno in aria Non ci hanno in aria Comunque Comunque nemmeno la resistenza Si 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 Rifa velocemente Perché siamo Forse è perché abbiamo poca resistenza Oh oh Attenzione Quello lì è un'altra cavalcatura O mi sbaglio Però è tale Quale a quella che avevamo preso Voi non ce ne scappa Nemmeno No Questo è proprio il cavallo nostro Ma com'è che oggi non facciamo danno No C'è qualcosa di profondamente sbagliato qua Ma non facciamo proprio danno oggi Ricordate Ieri mi sa che Dopo più li facevamo Sti cinghiali Sono di possibile Che siano diventati più forti Oh Ok Prendiamo questi qua Che servono Perfetto Un altro Puzzles C'è una leva Ci sono un miliardo e mezzo di laser E E E non c'è nemmeno un masto Vabbè Tiriamo la leva E vediamo che succede Ah Semplicemente Dobbiamo Andare E a tempo Dobbiamo attivare questi cosi Dobbiamo stare attenti Cioccolò Madonna E qua E noi non ce l'abbiamo tempo Buon del grido di battaglia Questo qua Farsi buono Perché il nostro attuale elmo E' uno schifo Più 11% D'anni con la resistenza Al massimo Ragazzi Il gioco ci prende in giro Guardate Anche la forma di questo casco Naturalmente Ci fa capire La bontà Del casco E soprattutto L'utilità Perfetto Che abbiamo Che abbiamo preso Questo qua Da qua Ci possiamo arrivare qui Andiamo qua Quindi giallo Rosso E poi andiamo qua Sì Vai Però Aspettate un attimo Un secondo Ma Possibile che Ah là Già l'abbiamo Già l'abbiamo preso Il Sì Ok Quando abbiamo detto Facciamo prima il giallo Facciamoli queste cose Perché 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 ci trovano i cristalli Per potenziare la roba Ragazzi Non abbiamo manco uno Con un'arpia Facciamo prima Quell'arpia Prima che ci spezza Ok Andiamo a prendere lo scrigno Poi ci sta Un ciclo Questo è un gioco Di genere Ho sbagliato qua Non dovevo andare Allora Sicuramente Dobbiamo fare prima Quest'arpia Ragazzi Eh vedi Non so Se l'abbiamo fatta Non l'abbiamo fatta Adesso Sì Poi facciamo questo Che non l'abbiamo fatta Perché Era Ma No ragazzi Sì Sì, è vero. ho premuto più ho premuto più posforo guardate lo sortimento non sale proprio nonostante guardate lo sortimento ragazzi siamo assolutamente debolissimi però abbiamo visto lo scrigno dobbiamo andare assolutamente a riprendere se riusciamo a potenziare qualcosa poi saremo da qua perché sembra che il gioco ci voglia far salire da qua fungo guardate quanti funghi ci sono qui dopo che finiamo questa missione assolutamente bisogna tornare alla fucina guardate la quanta roba ci sta ma scusate ma perché siamo stiamo sbagliando strada perché no noi dobbiamo andare verso il segno verso di là dobbiamo andare là ci sta pure un grifone vedete è un orso blu secondo la leggenda maestro fucsì corteggiò la dea lanciando un enorme macigno dalla vetta del monte e la conquistò un modo un po' strano per flertare ma io sono single perciò non parlo grazie qua c'è una sfida costellazione secondo me sfida musicale ok pitra di fucsì facciamo un attimo a questo no a sbagliare ok via forza stai contenti tutti e due perché non l'ho lanciato avanti non si capisce pure lo scalino che ci ha dato fastidio ok a posto allora vediamo un attimo come funziona qui perché questa è la seconda sfida mitica musicale ma la prima era non era una sfida vera e propria diciamo allora vediamo qui ci sono delle pesche che mi ricordo io funzionava così ah quello lì scusa non ho capito ma mica possiamo fare lo scambio di fosforo mettiamo il clone non ci può fare lo scambio di fosforo aspetta vediamo qui dentro che cosa c'è qui c'è qualche altra cosa che cosa c'è siamo rimasti intrappolati. Ma come facciamo uscire da un po' dentro adesso? Ma no, ma è impossibile che siamo rimasti intrappolati. Ho usato la pozione per sbaglio. Ok, quindi abbiamo capito anche quest'altra cosa come si fa. Mamma ragazzi, stavo sinceramente pensando che era un bug del gioco e non riuscivamo ad andare avanti. Allora, questo qua dovrebbe fare aprire questo e ci permette di prendere questa cosa qua. Ero veramente molto preoccupato. E questo qua sicuramente sblocca qualche cosa. Ok, quindi adesso quella campana grande la sappiamo suonare. Aspetta, aspetta, aspetta. Però l'ordine delle campane non importa. Abbiamo spiegato anche... ...una pozione. Qua però ce ne sto un altro di trabocchetto. Ma questo è a tempo. Non è a tempo. Ah. Ok. Scusa, giusto per capire quest'altro. Quindi. Questo quante luci c'ha? C'ha quattro luci. Quindi secondo la mia teoria si dovrebbe fare così. No, qua però non siamo messi male. Tipo. Colpiamo quella campana lì. Poi colpiamo questa qui. Poi ci facciamo una corsa qua. E facciamo così. Stanno ancora suonando le campane. Dobbiamo prendere l'ultima. scocchiamo la freccia. Ok. Un'altra moneta di Giada. E anche quest'altra sfida mitica è stata superata. Prendiamo anche l'Ambrosia qui. Ci dovrebbe essere un'Ambrosia da qua sopra. C'è pure un coso rosso. Ecco l'Ambrosia. Quanto stiamo lontano qua? Se prendiamo... Andiamo a prendere quel coso rosso, va. Perché dopo torniamo... Alla fucina. E quindi... Cerchiamo di potenziare un po' qualche cosa. Che la pure mi... Umasa di qui in casa? oraba un acésimo. Chola pure... Questa è pura... C там anti stagg. Questa è pura. Non ho capito, c'è qualcosa qui, ma non riesco a capire uno scrigno. Due cose ci sono qui. Un'ambrosia. Chi è che sta camminando sotto di noi? Ah, un ciclope. O l'equivalente del ciclope di questo gioco. E là ci sono pure delle cose, guardate. Andiamo a prendere quei fiori, perché siamo anguaiati a pozioni. Ci abbiamo due e una. Prima abbiamo anche sprecata una per niente. Ragazzi, questo... E là ce ne sta un'altra viola. Andiamo a prendere... Saltiamo la montagna, prendiamo qualcosa viola. E andiamo da quell'altra parte. Siamo assolutamente partiti per la tangente. Ok, riprendiamo la resistenza. D'accordo. Vabbè, questi hanno semplicemente riutilizzato gli asset. Ehm, ok. Controlliamo adesso. Andiamo a prendere questo punto rosso, ragazzi. Sì, non commettiamo gli errori. Sennò non finiamo più il gioco. Ok. Anche l'Ambrosia. E adesso andiamo a fare, abbiamo detto, la nostra super quest. Perché qua già ci siamo allungati. Questa è una cosa strana in questo gioco. Aspetta un attimo. Perché le cavalcature... Io non so perché hanno messo le cavalcature di livello 1. Nel senso che comunque anche nel gioco normale, la cavalcatura di livello 3. è facilmente accessibile dall'inizio del gioco, praticamente. No, proprio dall'inizio. Però finito il tutorial, diciamo. Questi hanno degli orsi blu. Dobbiamo andare esattamente là. Poi stanno... Vediamo se qua ci sono altre cavalcature, per caso. Fermiamoci un attimo qua. Niente. Ah, là c'è un'Ambrosia però. Adesso andiamo a prendere io un'Ambrosia. Ok. Ma adesso bisogna capire... Però io penso che non c'è, l'Itra. Andiamo da qua. Dai, sicuramente è da qui che bisogna iniziare a vedere, perché ci sta la pedana. Deve essere fico essere un drago. Nel senso, come usavate il vostro potere? Usavamo il nostro potere sul clima. Per lo più per rovinare i picnic alla gente. Tutto qui. L'espressione sui loro volti era già da cura. Interagisci. Ah, lo squarcio si chiamava. Andiamo a vedere se riusciamo a fare uno screenshot per la puntata decente. Se c'è un po' più sotto. Così prendiamo pure fosforo. Perfetto. Allora, adesso vediamo questa cosa qui. Non ha sbloccato né il ventilatore né il costo di fuoco. Ah, però ha sbloccato qualcosa lì. Quindi, ok, bisogna fare così. Bisogna sbloccare questo meccanismo in qualche modo. Perché così aziona questo ventilatore che fa sbloccare questo coso qui. Così possiamo usare il fuoco per attivare... Per distruggere il seme della distruzione. Allora, questo qui sicuramente... Colpiamo quello. Che non sappiamo che cosa abbiamo fatto. Però... Dobbiamo far girare qui. Bene. Perfetto, ho capito. Questo qui si fa girare così. Così il vento lo spassa a destra. Quello di vento lo spassa qua. Questo si accende. Dobbiamo sbloccare il quadro da sopra. Però, in tutto ciò, ragazzi... C'è qualche altra cosa che non è chiara. Perché questa pedana... È una pedana grande. Possibile che hanno fatto... Hanno sbagliato a mettere la pedana. Non credo. Ci sarà sicuramente... Qualche altra cosa che... Ci manca. E questa è la serenata di Ongor. Si chiama Ni. Non farmi del male. Ni, non aver paura. È solo un semplice umano. Senza offesa. Ciao Ni. Io sono Q. Il semplice umano che ha liberato te... E tuo fratello. Grazie. Ah, quindi... Per quell'arcobaleno... Ma hai sentito parlare di Lei Zè? Bella zona. Prezzi abbordabili. Tempeste magnifiche. Io e mia sorella dobbiamo energizzarci un po'. E... Quello è il posto perfetto. La casa dei draghi? Ho sempre voluto andarci. Andiamoci subi... Aspetta. Un attimo. Dove sei? Tutto a posto. Stai bene? Perché ci stai mettendo tanto? Dea Nuo? Ho un'ottima notizia per te. Forse ho una pista per l'elemento di Tian. Ah, ok. Splendido. Ma torna presto. Nuo? Oh cavolo. Chissà che è successo adesso. E abbiamo preso anche Ni. Quindi dobbiamo riferire a Nuo della nostra scoperta. Io pensavo che dovevamo andare... In quell'altra Tana. Tra le altre cose. Proviamo a fare anche un'altra cosa. Vediamo se riusciamo a distruggere quell'altro seme della distruzione. Ma secondo me non si distrugge questo qua. E invece si distrugge. 798 metri. Consegniamola a queste così ci potenziamo anche. Allora, prima di... Vediamo un attimo qui. Queste qui ci dovremmo riuscire a potenziare abbast... Una barra. Vabbè. Sempre meno di niente. Non ce la vediamo in animazione. Tanto è sempre la stessa. Questo qui 0. Perché non abbiamo preso manco uno. Crypte ce ne sono pochissimi. Questo qui 3. Allora, però ce ne servono 4. Eh no? Esatto. Le armi ci dovremmo riuscire. Ti prego. Allora, per le armature costano 60 e 300. Dobbiamo arrivare... Aspettate, vediamo. Livello 4. Dobbiamo arrivare delle armature. Che buono. E adesso dobbiamo arrivare anche a livello 4 delle... Armi. Però ci mancano... 530 cristalli blu. Le frecce le potenziamo, ma non servono a niente queste frecce. Ok. Chissà perché non ce la fa saltare questa animazione. Ok. Facciamo due pozioni. Prendiamo questa così. Eh, qua siamo inguaiati con le pozioni, ragazzi. Siamo proprio inguaiati. Sembano crisantemi e cuglianti. Non ne abbiamo proprio. E c'è ancora un'altra cosa che possiamo... Ah no, queste qua abbiamo detto... L'abbiamo fatto. Abbiamo fatto tutto. Quindi possiamo andare da nuova. E ci servono, abbiamo detto, la cosa più importante... Dobbiamo sbloccare le armi di livello 4. Ci servono esattamente 530 cristalli. Tutti e due. Ho trovato qualcosa di meglio. Due anime di drago. Possono procurarci un vero arcobaleno. Draghi? E dove sono ora? Oh, non si muovono con facilità. Perciò li ho lasciati entrare nel mio corpo. Ehi, voi due, venite fuori? Che cosa hai fatto? Che cos'altro ti hanno promesso? Quei draghi sono pericolosi, figliolo. Hai visto come il caos influenza qualsiasi cosa venga da Tian? Sì, hai ragione. Ho visto che Tian è caduto di fronte allo squarcio, ma il cielo è ancora lì. Perché è una scelta così difficile per te? Non parlarmi di scelte, ragazzo. C'è ancora molto che non comprendi. Ho fatto molte scelte difficili per proteggere l'umanità. Ho dovuto fare dei sacrifici. Ed è andato tutto bene. Nessun rimpianto? Rimpianto? Farei di nuovo le stesse scelte senza esitare. Tutto quello che ho fatto e che faccio è per l'umanità. Per te. E adesso tu... Per quale motivo non puoi restartene tranquillo e al sicuro? Dea, molte persone se ne stanno tranquille. Ma non per loro scelta. Ripristinerò i poteri di questo drago con... O senza il tuo aiuto? Ripristinare? Aspetta, non sai... Torna indietro, ragazzo. Che cosa vuoi fare, Dea? Rinchiudermi di nuovo? Io non ti ostacolerò. Fa ciò che ritieni necessario. Grazie, quella cosa lì mi ricorda tanto Sekiro. Quello è un gioco che sarebbe bello imparare a giocare. Solo che ci vuole... Troppo tempo. Allora, vai al pozzo di Leize e aiuta i draghi, come aveva detto lì. Lì c'è stata un'altra cosa. Sfida cerca solo e rivelata. Dico... Oh, 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 oh. Ah no, quella non sta dietro la cascata, sta davanti alla cascata. Guarda, tutta sta roba non l'avevamo fatto. Quella è una cripta del tartano. Ah, una sfida con se l'azione c'è là sopra. Ma dove è quante roba? Comunque, lì di fronte a noi pure c'è qualcosa, vedi? Ah, infatti c'è stato scritto. Questa è la fotografia che abbiamo fatto noi. Techizzato. Infatti. Allora, a questo punto ci vuole un piano di azione. La cripta del tartano non la facciamo, però vedete qui ce ne sono proprio pochi. Cioè in tutta la regione ce ne sono tre. La cripta del tartano la facciamo nella prossima puntata. Adesso questo è il nostro piano di azione. Andiamo a prendere questo. Poi prendiamo questo, 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 questo e questo. Esattamente così. Quindi, eh, prendiamo, prendiamo un B. Andiamo qua sotto. Ascoltate un attimo, ok? Va bene, va bene, va bene. Comunque ricordiamoci, ci servono esattamente 530 cristalli. Questa non l'abbiamo fatto già. Quello si gira. Ci ho visto già. Ma dai! Non ci diamo l'acquisto, no? No, questo è giallo. Non riusciamo a fare perché forse c'è lo scudo. E se lo colpiamo da dietro, lo scudo... C'è lo scudo che è rappresentato da qualcosa. Ok. Facciamo fosforo. Non dobbiamo stare dentro a questa roba paludosa. Qua... Ci diamo questo così disabilitiamo lo scudo a quell'altro. Ok. Mamma... Proprio i danni zero siamo. Comunque i puzzle qui mi sembrano molto più semplici che quelli nel gioco originale. Le ultime parole famose. Questa cosa qui la dobbiamo sicuramente prendere... Q. La piglia pace. La dobbiamo mettere qua. Perché così... Non so che cosa succede. Questo qua... Lo dobbiamo sicuramente girare da quest'altra parte. Così attivo questo... Che... 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 Non ho capito... Ne servono due... Ne servono a far abbassare il tutto. Infatti questo qui... La dobbiamo colpire da qua. Quello va bene. E quello va bene. Chiaro... Questo qua funziona così. Questa è una nuova meccanica. Quello si abbassa con uno e se ne scende un altro. Ah ok. Ho capito. Ho capito. Allora. Si parte così. Vedete? Poi si prende questo qui... E appena quello là... Fa passare il vento. Si fa scendere. Anche prima. Perché quello... Il vento... C'ha un giro. Ok. Mettiamo qui. Quello blocca il vento. Ce lo facciamo a tempo? Non ce l'abbiamo fatto a tempo. Nemmeno adesso. Lo dobbiamo bloccare molto prima, ragazzi. Mettiamo che ci staando. Ma che abbiamo fatto? Oh mio! Non ce l'abbiamo fatta. No, così sicuramente non ce la facciamo Allora, ragioniamo Quello lì scende E fa passare un po' di vento Però appena togliamo questo coso Quello lì scende e quello lì sale E il vento lo blocca immediatamente Quindi facciamo passare giusto giusto Adesso Così passa un po' di vento E quello lì No, però non è abbastanza Vediamo, se lo possiamo adesso Quanto vento Quanto ci manca perché il vento finisce Ci manca proprio Non riesce quasi a girare Il Ehm No Avevo appena finito Allora, questo qui parte Allora, guarda E' ancora peggio così Allora, guarda ma posso dire che non riusciamo a capire come funziona ma va va let's die scusami ma forse adesso dobbiamo fare il giochetto e intanto si è fatto giorno ma ragazzi possibile che non abbiamo ma ci deve essere un modo per fare questo allora quando quello si abbassa il vento passa però si alza quell'altro cosi quello lo fermo immediatamente quel vento lì non ce la fa mai a passare perché quello sale sempre troppo su intanto che arriva il vento da quest'altra parte secondo me è così però perché guardate allora il ragionamento è questo qua se io faccio passare tutto il vento adesso è tutto al massimo e poi lo fermo per un attimo qualcosa lì in fondo gira quindi è giusto un secondo che dobbiamo che gli dobbiamo dare perché quello lì in fondo è molto più alto di quello lì a destra quindi non dobbiamo fare arrivare quello lì in fondo soprattutto il problema è che se non gli diamo abbastanza spazio a parte che ci arriva lo stesso soprattutto ma poi il vento non riesce a passare dall'altra parte vedete perché non c'è abbastanza spinta a meno che non dobbiamo far fare questo caso qua a singhiozzo tipo così ma non è così perché adesso passa però se facciamo così quello comunque è arrivato a sinistra in fondo a tutto il vento questo qua non c'è abbastanza spazio per farlo partire a meno che non c'è qualche altra cosa che non abbiamo visto quindi se questo qui è premuto questo qui va così mentre se non è premuto qua ce la fa quasi giusto giusto e se lo facciamo andare dritto manco funziona a meno che a meno che no perché questo si ferma non è che 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 è che non è che Grazie a tutti. Questo va qua, quello va là. Questo qua, se lo giriamo indietro, che cosa succede? Ma no! Ma no! Dobbiamo fargli fare il giro più lungo, ragazzi. Però come gli facciamo a far fare il giro più lungo? Ragazzi, io sono sicuro che è qualcosa del genere. Perché sennò non è possibile. Non è possibile! Dobbiamo allungare il tutto di un passo. Non dobbiamo allungare. Perlomeno un passo. Allora, se questo qui lo giriamo così. E quello lì lo giriamo così. Ecco come dobbiamo fare. E questo qui lo giriamo così. Allora, adesso il vento arriva da qua, va qua, poi arriva qua e arriva qua. No, però così non torna indietro. Così non torna indietro. Aspettate, proviamo a fare una cosa. Perché questo qui si ferma. Certo che si fa così. Si fa così. No. Dove essere per forza così, no? Perché? Aspetta. Ancora dobbiamo cercare tutto al contrario. Perché così... Tutto il pezzo del vento funziona. Infatti adesso se lo blocchiamo qua... Vedete? Tutto il vento continua a girare. E non si ferma. Quindi... Ma dai! E questo continua a girare. Quindi adesso che giriamo questo... Questo qui ha tre ventilatori che funzionano. Arco di I eroico. Però è solamente un nuovo aspetto. Non è niente di... Mamma mia ragazzi. E questo è quello che l'ha pensato. È incredibile. Visualizzo sfide. Vediamo Shift F2. Vediamo che sfide abbiamo completato. A tempo limitato. Non abbiamo completato niente. Sconfiggio i nemici con l'ascia. Sconfiggio i gorgoni. Ah questi qua mi sa che me li danno nel gioco principale però. Quindi nel gioco principale ragazzi. Un'altra cosa importante da capire. È che... Per aumentare le skill bisogna fare anche le sfide della community. Ma ragazzi questo qua comunque era difficilissimo questa cosa eh. Ma voi ce l'avete fatta subito. Proprio... Una cattiveria spaventosa. Comunque. Continuiamo con il nostro piano di conquista. Andiamo a prendere questo. Poi prendiamo questo e poi andiamo... Arriviamo fino a là. Esatto. Dove sta il segnalibro? Non ho messo il segnalibro. Non ci sta il segnalibro. Sta esattamente dietro noi a sinistra. Eccolo là il segnalibro. Sta nascosto. Guardate qua. Qui ci sta un cavallo. No? Prendiamo se cristiantemi che siamo inguaiati a pozioni. Qua ci sta una cripta del tartarocchio. Però abbiamo detto che non la facciamo. Oggi. Poi là sopra ci stava un'ambra. Là ci sta una caverna. Dobbiamo andare a vedere chi ci sta. Pure perché non abbiamo nessun segnalibro. Perlomeno questa caverna. Ma perché non funziona? Ma è strano proprio. Ma forse questa storia dei potenziamenti funziona in maniera... C'è diversa qua. Oppure ero troppo abituato... Con l'altro gioco. Cioè questa l'avrei dovuta... Andare per il mare subito. Con tutte le combo che abbiamo caricato. Invece no. Proprio zero danno. Qua c'è un tesoro nascosto. Che però c'è perché dovevamo prendere 530 cristalli. Questo ce ne andava 22 però. 37. Proprio qualche cristallo l'avremmo preso qua fuori. Vediamo un attimo. Ce ne mancavano 503. Mamma quanti cristalli che abbiamo fatto. Teoricamente qui ci possiamo andare a potenziare pure le armi. Tutte e due. E soprattutto prendere l'upgrade di livello 4. Ragazzi ma andiamo. Dobbiamo... Ah però facciamo un'altra cosa. No facciamo un'altra cosa. Ho un'idea. Innanzitutto prendiamo sta roba. Risantemo. 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 Là c'è l'Ambrosia. Perfetto. E là è la forgia. Adesso facciamo questo scrigno che sta qua sopra. Ah ma qua non ci dà però la... Il teletras... Non ci ha dato nessun teletrasporto. Forse ce lo dà. Adesso che arriviamo qua sopra. Cioè giù ci ha dato 8 miliardi di teletrasporti. E qua manco uno ancora. Vediamo. Tra l'altro non ci arriviamo a volo fino a là sopra. Entriamo. Entriamo. Comunque quella parte di prima non la taglio ragazzi perché... È proprio... Va bene così. Nel senso che ci abbiamo dovuto pensare. Così. Se no dicono... Che imbroglio. La lasciamo come prova. Allora. Vediamo un attimo... Qui. C'è un... C'è una sfera. Questa è pesante. E... Qua dentro che c'è? Qua c'è un'altra sfera. Ok. Quindi parte tutto da qua. Il problema è che... Questo qua facciamolo piccolino. E questa sfera la dobbiamo muovere. Ok. Allora. Allora. Questo qua funziona così. Questo qua lo passiamo da quest'altra parte. E lo facciamo ingrandire. No. Non si riesce a ingrandire perché la sfera sta troppo vicino probabilmente. Prova adesso. Ok. Poi... No. Ma perché prende sempre questo e non prende mai la sfera? Comunque. Cerchiamo di prendere la sfera stavolta. Eh. Ce l'ha cambiata. Ok. Tiriamoci la sfera. Quello là... Però abbiamo portato la sfera avanti. Adesso ci tiriamo questo. Tanto adesso lo sappiamo e quindi non sbagliamo più. Perché... Prestiamo particolare attenzione. Questo qui lo facciamo diventare piccolissimo. Così si gira e poi grande. Perfetto. Poi prendiamo la sfera. E la mettiamo qui. Quello lo rimpiccioliamo. Così la sfera sale su. E probabilmente rimane in forma semi utilizzabile. Ma non è finita qua. Perché? Ci dobbiamo portare... Sicuramente ci dobbiamo portare la sfera qua. Da utilizzare come peso. Che... Cosa... Cosa ha fatto? Non ha fatto un bel niente. Però ci dobbiamo portare anche il cubo. Allora, per portarci il cubo invece... Lo facciamo diventare grande. Così fa abbassare qualcosa. E poi semplicemente... Ce lo triab. Beh, non ci siamo riusciti per qualche motivo. Beh, non ci siamo riusciti per qualche rinforità. Per caso... Beh, non ci siamo riusciti per fare un'è... Poi, non ci siamo riusciti per fare. Il problema è che non lo sappiamo, perché quello è un peso grande e quindi si è attivato. Ok, quindi bastava uno o qualsiasi degli interruttori. Solo che visto che avevamo tirato la sfera troppo da quest'altra parte non faceva... non ci metteva tutto il peso. Ok. Quindi adesso tirando anche la sfera da questa parte... Questo qua l'abbiamo risolto. No, forse si è aperta definitivamente, proviamo. Penso di sì, dai. Vai, sfera, ce la puoi fare. Uno, andiamo a prendere quell'altro. E due. Questo non riesce a passare da qua sotto, lo facciamo diventare piccolino, però ci riesce. Abbiamo preso anche quest'altro scrigno. Armatura dell'avversario vacillante. Ah, vediamo, vediamo. Ma come personalizzazione l'aspetto? Ma no. Armatura. Recupera 180%. Subire danni non interrompe le combo o gli attacchi. Questo qua è buono, abbiamo detto. Questo non è tanto buono. Secondo noi, è più due segmenti di salute e più venti... No. Questo è quello che abbiamo preso adesso. Secondo me è meglio questo, perché questo qua, subire danni, non interrompe... Non interrompe né le combo e né gli attacchi. Quindi non ci scende mai l'indicatore di combo. Questo qua è sicuramente meglio. Questo qua, abbiamo sempre lo stesso. Sempre lo stesso. Gli archi. Vediamo quest'altro... Gli archi è uguale, perché non facciamo mai danno con gli archi. E questo qui, abbiamo sempre solo questo. E quindi abbiamo fatto. Perfetto. Unica cosa, che non ci abbiamo il teletrasporto. Allora, io andrei a vedere... Sì, andiamo a vedere un attimo qua, ragazzi. Sì, perché qua sicuramente ci deve essere un'altra cavalcatura. Forse sicuramente no, perché questo qua... È una cosa che... Oh, guardate là quel drago. Eh, però, qualche cosa c'era. C'era uno scrigno. Dove sta questo? Un altro scrigno. Un altro scrigno. Perché... Quello che io mi confondo sempre, dicevo... È che questo qua è un DLC. Quindi non può essere mai lungo quanto il gioco. Deve essere per forza più corto. Andiamo sui grisantemi. Allora, là c'è il grifonzo. E qua ce ne... Va bene. Il grifonzo lo facciamo per ultimo. Sicuramente. Quindi questa è l'Eize. La tempesta sembra innaturale. Vediamo anche queste cose. Perché il grifone è sopra. Se stiamo attenti, ci aiuta anche con questi nemici giù. Pozzo di l'Eize. Ok, questo qui... Scendiamo. Sì. No, ce ne dobbiamo andare. No, ho sbagliato. Ma dai, però ho sbagliato appena. Mi devo chiamare Fosforo. Prendiamo queste sferi di resistenza. Fosforo. Mamma mia. Non... Comunque... Non si può giocare così. Lo stordimento... Non sale minimamente. Vediamo se riusciamo a stordire adesso. Cioè, voglio di colpirlo. Adesso fango alle fricce, si stordisce. Vediamo... Vediamo un'altra pozione di mano, va. No, lo stordiamo adesso. Questo qua ci distrugge. Pure perché prendiamo anche i danni da caduta. No, è morto. Voglio le armi del gioco di Fenix. C'avevamo... Un'attrettatura che faceva paura. Non ce le può portare a presto. Questo fango... Col prossimo... Allora, ci facciamo... Ci vogliono... Ottordici pignoni di colpi. Cioè... Per farne uno. Allora. Dopo aiutiamo i draghi. Intanto facciamo una cosa... Facciamo testa e tempio. Ok. Prendiamo un attimo quell'Ambro. Ambrosia, Ambrosia. Problema è che se non facciamo le crypt del tartaro... La resistenza non la aumentiamo mai. Facciamo una cosa, ragazzi. Nella prossima puntata facciamo solo quelli. Perché non possiamo stare qua con zero resistenza. Pure nei combattimenti. Siamo sempre a zero. Questo qua, guardate lì. Ci sta qualcosa. Vabbè che ci sta anche una sfida... Dobbiamo vedere un attimo come è fatto. Vediamo. Vai sotto terra e alza gli altari. Ci siamo. Gli altari migliori che ci siano. E quali sono gli altari? Dobbiamo alzare gli altari. Ah, questi due sono. Un drago e un altro drago. E quindi qui ci sta un modo per alzare... Ok. Qua ci sta una pedana. No, ci stanno due cose. Li attiviamo. E cade qualche cosa, vero? Ah, qui c'è una scatola. Ok, ho capito. Perfetto. Bello. No, ricominciamo. Non ci serve il suo aiuto. Ok. E questo qua l'abbiamo fatto. Allora lo mettiamo qua. Poi un altro sta qua sopra. Ok, si va da qua. Bisogna... Prendere questo. Allora lo facciamo di intanto e piccolo e ce lo tiriamo. Quello dei venti in confronto a questo era proprio 18 milioni di volte più difficili. Ok. Saliamo anche noi con gli altari. Non pensavo che ci stesse tutto qui dentro. Mi sento un po'... Assunnata. Ok, vi siete rifucillati. Ora andiamo all'albero Jianmu. Che cos'ha di così speciale quell'albero? A parte essere gigantesco. Un tempo l'albero Jianmu era una via per Tian. Quando smetteva di piovere, da esso si stagliava un arcobaleno verso il cielo. Da piccolo sognavo sempre di camminare su quell'arcobaleno e di raggiungere Tian. E nero. E pensi che la sua connessione a Tian possa aiutare a ripristinarci? Ora avete assorbito le tempeste. È chiaro che tu e me avete ancora qualche potere, anche in forma di anime. Vi serve solo un po' di brio in più. E quella cosa che ha detto Noah sulla pericolosità di tutte le cose di Tian? La Dea ha il terrore di qualsiasi cosa possa fare davvero la differenza. Andiamo al Jianmu. Al Jianmu. Ok. Vediamo un attimo come siamo, mister, ragazzi. Non ci andiamo al Jianmu al momento. Andiamo un attimo a potenziare Wu. E poi finiamo qui la puntata del Let's Play. Perché è già abbastanza lunga. E continuiamo nella prossima puntata. Quindi, sicuramente abbiamo le Ambrosie. Però, quello che dobbiamo... Giusto, giusto ce l'abbiamo. Quindi niente sicuramente. Ma quello che siamo venuti a potenziare assolutamente adesso sono le armi. Ma facciamo pure due pozioni che siamo guaiati. Ok. Allora, sicuramente dobbiamo portare le armi a livello 4. Le frecce le facciamo per ultimo. Ragazzi, non conviene spendere nemmeno un cristallo blu per le frecce. Adesso però ci vogliono 1800 cristalli blu. Per aumentare oltre a un miliardo di questi cosi qua. Pur perché qua le frecce le abbiamo portate quasi al massimo già. Chissà perché non ci fa schippare questa animazione. E' una cosa molto strana. Abbiamo preso anche delle monete sicuramente. Non abbiamo preso le monete. Ma dai. E questo qui manco l'abbiamo preso. Quindi ragazzi, la puntata del Let's Play finisce qui. Noi ci vediamo domani con una nuova puntata del Let's Play di Immortal Phoenix Rising, il DLC. I miti del Regno d'Oriente. Ciao. Ciao.